Supporto della testata scorrevole I nuovi supporti della testata dello scaffale scorrevole permettono la realizzazione delle tre larghezze standard. Barre anticaduta Per le scaffalature del sistema IM92 sono disponibili due nuovi accessori che per la loro funzionalità e praticità di applicazione rappresentano una novità utile ed efficace, la barra anticaduta ed il segnalatore articoli e prezzi. La barra anticaduta garantisce una maggiore sicurezza dall'eventuale spostamento e caduta dei prodotti dallo scaffale. Nuovi profili per guidovia IM09 Con la nuova piantana e trave in alluminio, siamo in grado di fornire l'impianto interamente in alluminio, garantendo una maggiore facilità di montaggio ed una elevata capacità di carico. Porta bottiglie Il nuovo porta bottiglie componibile in alluminio anodizzato è la soluzione ottimale per riporre e posizionare bottiglie in modo semplice e sicuro. Questo sistema permette di impilare perfettamente le bottiglie e di renderle subito visibili per una rapida ricerca. Il nuovo portaрузione